Lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 19 ter tra i territori comunali di Auletta e Caggiano. Gli interventi partiranno dall'unedì e dureranno fino al prossimo venerdì 12 agosto. L'esecuzione delle attività comporterà limitazioni al transito sull'arteria. Nello specifico spiegano da ANAS che dalla fine del 2018 che ha la gestione della cosiddetta dorsale aulettese nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.30 ad esclusione del sabato e della domenica sarà attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o personale addetto. I lavori interesseranno il collegamento tra l'uscita dello svincolo di Buccino del raccordo autostradale 5 Sicignano-Potenza e l'innesto della strada statale 19 delle Calabrie a Polla ad esclusione della tratta interessata dai lavori di manutenzione programmata sui viadotti. Infatti, quelli che partono lunedì non sono gli unici interventi sull'arteria. Partiti dallo scorso marzo, ci sono importanti lavori di messa in sicurezza dei viadotti nel territorio di Caggiano per un investimento complessivo di 7.200.000 euro. Una volta terminati, consentiranno di riaprire il tratto ai mezzi pesanti. Era stata disposta la chiusura da parte di ANAS al traffico superiore alle 3,5 tonnellate sui tre ponti Ficarola, Massavetere e Calabri, il che ha avuto importanti ripercussioni sulla mobilità scolastica locale, comprensoriale e interregionale e alle attività presenti lungo la dorsale.